Ciao, ti do il benvenuto su MyWork. Sono Daniela Rivadaru, sono psicologa e psicoterapeuta. Nella mia attività mi occupo principalmente di sostegno psicologico per adulti ed adolescenti. Il mio obiettivo principale è quello di venire in aiuto alle persone che si trovano in difficoltà e non riescono a superare alcune situazioni di vita. Da un'altra parte mi occupo anche delle persone che cercano una miglior comprensione del loro funzionamento, cognitivo ed emotivo, raggiungendo in questo modo, alla fine del loro percorso, un equilibrio con se stessi ma anche con gli altri. Consiglio MyWork perché rappresenta un ottimo supporto di aiuto per le persone. Le sedute si svolgono online, dando in questo modo la possibilità a tutti di poter intraprendere questo percorso indipendentemente del posto fisico dove si trovano. In altre parole, MyWork rappresenta un'occasione di poter costruire una relazione terapeutica basata sulla fiducia, dove ci si può sentire vicini, pur trovandosi lontani. Un caro saluto e a presto!